Domenica di test match per l'Avellino Jutt, presso il centro sportivo Kennedy di Napoli, l'Under 16 e l'Under 17 hanno affrontato le formazioni giovanili del Napoli Calcio. L'Under 16 di Mr. Fabbro esce sconfitta per 4-1 nella prima gara giocata alle ore 10.30. Sono andati a segno per il Napoli, Milo, Vilardi, Russo e Grieco. Non è bastato lo squillo di Leonardo che ha portato il punteggio sull'1-1 fino alla prima frazione di gioco. Gli uomini di Roberto Filarmonico escono sconfitti invece per 2-1. Tarcinale porta i vantaggi lupi nel primo tempo che soffrono le incursioni degli avversari dimostrando in ugual modo grande personalità. Due gare importanti che concludono il ciclo di test match iniziati sabato scorso. Incontri fondamentali per comprendere gli sviluppi del settore giovanile neocostituito che finora ha potuto solo effettuare degli allenamenti interni data la sospensione dei campionati. Partite che, come stesso affermato dall'amministratore unico della IDC Giovanni D'Agostino, servono solo per comprendere i progressi del lavoro effettuato sinora. Il risultato è una formalità, quel che conta la crescita del gruppo.